Le FS chiamano a raccolta le start-up per sviluppare processi innovativi per migliorare servizi e modalità di assistenza in un'ottica di integrazione sociale delle persone che vivono in stato di fragilità. E' questo l'obiettivo della nuova Challenge Open Innovation di FS italiane denominata Tutte le strade partono da Roma. Nata con il supporto di Alventure, la partecipazione di Giaula, la scuola di Eni per l'impresa, Elis e Binario 95 insieme all'Osservatorio Nazionale della Solidarietà nelle stazioni italiane. PMI e start-up candidate potranno presentare soluzioni per migliorare l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone in stato di fragilità, in particolare per quelle che si trovano negli spazi delle stazioni ferroviarie di Termine Tiburtina di Roma. Un progetto importante per le FS come conferma Franco Stivali e Dov Innovation di Ferrovie dello Stato. Per noi questa è una colla molto importante, invitare le start-up e le piccole e medie imprese innovative a dare un loro contributo a quello che è uno dei problemi evidenti della vita in città, cioè l'emarginazione sociale. L'intervento che noi chiediamo non è di carattere, chiamiamolo così, umanitario di soccorso, perché su questo Ferrovie dello Stato in particolare fa già tantissime cose e molte iniziative. Quello che noi chiediamo è proprio un apporto innovativo, cioè delle idee, qualche idea che possa contribuire a ridurre questo fenomeno e ad aiutare una vita più inclusiva nelle città. Quindi è una sfida particolare, un po' più difficile di quelle che di solito vengono proposte, però se non siamo noi che ci prendiamo l'onere delle sfide difficili, chi meglio di noi? La Col offre interessanti opportunità per le start-up e PMI che parteciperanno come prosegui stivali. Per le start-up l'opportunità è importante perché significa entrare in contatto con un grande gruppo come quello Ferrovie dello Stato, che ha un contenuto di tecnologie molto importante, ha un contenuto di attività molto importante, di contatto con la popolazione, di contatto con quelli che sono i problemi e le situazioni reali. Quindi è un momento di crescita, un momento di crescita sia in termini proprio di impresa, di azienda, sia in termini di conoscenze e di tecnologie che poi renderemo disponibili a tutti. Del resto la sostenibilità sociale è un tema da sempre all'attenzione del gruppo FS, come conferma Paola Longobardo, responsabile People Care del gruppo. È stata da sempre importante la sostenibilità, oggi come in passato assume una importanza ancora più forte e una connotazione dove la parte di impegno sociale pro comunità che ruotano attorno alle nostre stazioni è uno degli elementi determinanti in cui lavoriamo. Lavoriamo da 20 anni, abbiamo più di 18 help center che sono diffusi su tutto il territorio nazionale, nord, centro e sud. Il presupposto è che le nostre stazioni sono stazioni di tutti, dei passeggeri ma anche delle comunità e delle persone anche con le fragilità che ne trovano riparo e abbiamo un modello di intervento da più di 20 anni che grazie a questi 18 help center forniscono un supporto in termini di primo livello di aiuto, di documenti, di reinserimento delle persone in stato di fragilità nel tessuto sociale che ci permette di dare supporto a circa 15.000 persone l'anno e fare più di 49.000 interventi. Non siamo soli, è il gruppo Ferrovie che mette a disposizione asset e spazi ma è un modello di intervento che ha in sé una collaborazione fortissima con le organizzazioni e terzo settore che hanno competenze, know-how e volontari e la parte istituzioni. Startup e PMI avranno tempo fino al 20 luglio per partecipare registrandosi su InnoStation, il portale di FS dedicato all'innovazione.